Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Ratchet & Clank per PS2 Ok, dobbiamo adesso andare sul nuovo pianeta perché ci servono dei gadget necessari per poter tornare qua ed entrare nella base Bene, adesso abbiamo due infobot in realtà Potremmo recarci indifferentemente su Gaspar, quindi deposito Blarg Oppure su Orxon, raffineria Kogor Io direi di andare prima qua, in realtà potremmo fare uno o l'altro in maniera indifferente Però ne ho prima qua, per illustrare i laboratori, perfetto In questo episodio penso che avremo una sezione nei panni di Clank Quindi avremo delle sezioni molto più sotturate ad enigmi Vediamo in nostarci 15 anni probabilmente E niente, io approfitto di questi soliti viaggi spazio-temporali Per ringraziarvi dell'affetto e della stima che mi riponete ad ogni video, ad ogni gameplay E quindi spero che questo gameplay vi sia piacendo È un gameplay un po' atipico, nel senso che è un po' diverso rispetto agli altri Perché essendo onge, perché gioco un vero e proprio let's play È un gioco che gioco per la prima volta Un gioco che gioco Beh, giochi di parole Ah, ancora gioco ho detto, vabbè Comunque, attenzione necessaria, maschera O2 per le forme di vita Ok, quindi siamo qua nei panni di Clank Ok, vediamo un pochino cosa possiamo fare Possiamo tipo recuperare un po' di bolt innanzitutto Siccome dobbiamo poi comprare ancora delle armi Di cui potremmo avere un gran bisogno Il problema è che non abbiamo mai bolt per comprarle Quindi quando troviamo delle casse, spacchiamo tutto Ok, bene, qua Munizione del guanto bomba Ma penso che no Potremmo andare tipo qua Entriamo Qua giustamente serve una maschera Servirebbe una maschera per l'ossigeno Per poter entrare senza subire danni Ma siccome Clank Ui Ma siccome Clank è un bellissimo robot Non ha vie respiratorie Non avrà problemi a superare in denne questa zona Ok, qua Tizzi Tizzi da uccidere Ok Bene Qua dovremmo di nuovo trovare i nostri bei robottini Immagino Ok Uno Sì, GageBots Ma puoi utilizzare i comandi per spedirli nei portali bot Ah, ok Va bene Perfetto Quindi per mandare nei portali bot Possiamo usare il comando Entra Quali hanno già i comandi? Attendi Segui Attacca Entra Vabbè No, niente Cioè Venite qua con me Devo fare fuori questi Questi li faccio fuori io per adesso Che dopo attaccherete voi E per me Perché se no non è il caso Ok Vieni qua Grazie Siete tutti con me? Eh Segui Yes Dunque Di qua Non possiamo fare niente Mi sa Entriamo qui Venite con me Siete tutti qua con me? No Dove siete? Ah Ah, tra l'altro Facciamo tipo così No? Ma tipo Sì io faccio una cosa Proviamo una cosa Devo provare una cosa Tipo faccio il comando Ah, ma siete tutti lì Volevo provare il comando Entra magari nei portali Ok, segui Eh No, no Ma da quale partito Aspetta Ma io mi sto perdendo Oh Niente Proviamo Non lo so Sì, ma sto andando giusto di qua Sì, in realtà Non lo so No, ma penso No, ma aspetta Aspetta Che cazzo faccio Ma c'era Questo, questo Attacca Attaccate ai miei prodi Questa Sa molto di Pikmi In questa zona È fighissimo Ok, seguimi Sa molto di Oh, aspetta Oh No, me ha già Me ne ha ucciso uno Bene Benissimo Me ne seguivano tre Dimmi che devo andarmelo di nuovo a prendere Beh, voi entrate Dov'è che? Entra Entrate Me ne ha ucciso uno Grandissimo Ok, devo tornare indietro a prenderlo Mi sa Se Non mi è molto Definitivamente No C'è di nuovo Meno male Meno male Beh Ok Segui Ma tipo faccio una cosa Entra Ah, tu vai nel portale Mitico Ok Mi sembra giusto Seguimi Ok Vieni con me Dove erano qua Benissimo Già siamo riusciti a complicarci la vita Perdendone già uno Sa molto di Sì, sì, lo so Lo so Non stai zitta Entra Sa molto Come dicevo prima Sa molto sia di Queste sezioni qua Sia di Di Abe Che di Che di Pikmin Ok Recupera Bellissimo Ok Dunque ora Facciamo fare anche Te Ok Infame Qua Di suo Jammer Poi un po' di Bolt Qua Te ti devo ammazzare Per forza io Di qua Non abbiamo Altri Cosi da Apprendere Bene Eh Eh Oh Attenzione Qua Sì Attenzione Ci sono Questo E Questo Ti faccio attaccare Attaccate Bene Bravissimi Venite con me Seguitemi Ok Questi li faccio fuori io Dai Non vi preoccupate Questa volta Ci penso io Ok Che c'ho I pugni Nelle mani Cioè i pugni Nelle mani Come diciamo Un trailer Di maccio capa Tondo Ok Qua Sì Allontaniamoci I miei prodi Dunque Ora Vediamo un po' Qua le cose Cominciano a forsi Complicate Dunque tu vieni qua Muori Benissimo E uno in meno Ce l'abbiamo Ora In questo Devo spedire Sì Spediamoli qua Entrate Ah Ah Ne servono ben sei Fantastico Bene Adesso invece di mandarli dentro Ci riportiamo tutti dietro Quasi quasi E facciamo tipo Ci creiamo il nostro piccolo esercito Ok Qua li suggiamo Li suggiamo tutto E seguitemi però Ok Di qua Bu C'è un altro qui Benissimo Sì Tocchiamo così Tende a esplodere Con la cassa Sono sei Quindi questo E il quarto Di qua c'è altro No E laggiù Cinque e sei Perfetto Sono tutti Venite qua con me Che devo Risolvere un enigma Mi servite Venite Andiamo Mie prodi Sì All'attacco Cazzo Benissimo Guarda che figata Guarda che figata Sembra veramente Capitanormal Con i suoi pikmin Tra l'altro vorrei troppo Fare un tempo di pikmin Madonna sono Veramente Appena Ve lo prometto Appena No Appena recupererò Pikmin 3 Riponete che farò Pikmin 3 Ok Entrate Sì Tutti dentro Andate Bene Qua recuperiamo subito Uno E uno Due Yes Good Ehm Aspetta Qua non mi posso Arrampicare Però sì No Non è Non è un punto In cui ci si agrampica Benissimo Ok Qua Ok Aspettiamo che esploda Voi come faccio a portarvi Aspetta un attimo Aspetta qua c'è sto Interruttore No 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 Non lo so Forse si apre dall'altra parte Aspetta andiamo a vedere Andiamo giù di qua E Ah sì Seguitemi E così si faceva Bene Ok voi due Ora siete qua con me E quindi io sono Mi sento molto più sicuro Ok qua Attacchiamo Questo E prendiamo anche questo Altro Infobot Cioè Info Adesso dico Info sono Qualcosa Non lo so Come cazzo si chiama Gaggetbot Tipo una cosa del genere Ok qua ne devo lasciare Ehm Attendi Bene Prima però voglio vedere No di qua non si può andare Perché sono casse che si distruggono Solo in altri modi Ok Ora sono qua Vi posso far seguire Bellissime Se le sezioni mi piacciono un sacco Sono studiate piuttosto bene Devo dire Ok Qua sì Questo possiamo Attivarlo Bene Meno male che c'era Una cosa di nanotech qua vicino Perché almeno Mi ha salvato il culo Ok qua Prendiamo un altro Gadgetbot Attaccate Attaccatemi i prodi Mentre io lo faccio Incetta di bolt Ok Quassù si potrà andare Probabilmente Ok però Stiamo lontani Ragazzi Stiamo lontani Ragazzi Entrate qua No Segui Entra Qua io posso andare Sì Così distruisco anche queste casse In realtà potrei anche sbattermene un po' di prendere queste casse Non è fondamentale questa cosa Però Siccome Ti eri nascosto Benissimo Però siccome Mi servono poi un po' di Un po' di bolt Per recuperare Delle armi Secondarie Meglio Ok E volevo tipo Attivarti Bene Ora Aspetta un attimo Dunque 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 Adesso Dunque C'è sta cazzo di cazzo Aspetta Fai indovinare Dunque Aspetta Ma questa va da sola Può vedere Ah Sale e scende da sola Questo Ok Seguitemi Voi non mi potete seguire Ok Allora rimanete lì Dunque Possiamo scendere giù di qua Yes Oh Attenzione Bene Abbiamo un altro Infobot qua E potete seguirmi adesso Venite Venitemi i produs Sui io vi attacco Cazzo Benissimo Qua recuperiamo questi Beybolt Che abbiamo Sbloccati in maniera Molto Intelligence Bene Tu Seguitemi tutti E poi Entrate Dove era il comando Entra Qua Via Good Qua Bene E Aspetta una No Dai Me ne son fottuto uno Dai Non ci posso avere Me ne son fottuto uno Porca troppo Vedete E certo E mi serviva Cominciate ad entrare voi Va che io vado a recuperare un altro Infobot Bella miseria Oh Gesù bambino Dimmi che qua Uno No 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 fuck Adesso mettiamoci qui Vai Seguimi Ce la fai ad arrivare Ok E adesso allora Entra Qua Vai Bravissimo Vieni Entra di nuovo qua Così magari Bisogliamo questo enigma Ok 3 ore Per risolvere questa cosa Che se l'avessi fatta subito Magari Ok Ok di qui Niente Andiamo un po' Vediamo un po' Cosa dobbiamo fare Adesso Dunque Ah Qua abbiamo solo delle casse Da distruggere C'è altro No Sembrerebbe non esserci Altro Se non Se non No Questi non sono interculture Che si possono rompere Bene Eh No Direi che possiamo uscire Di qua Ah Benissimo Guarda qua Cosa abbiamo trovato Questi magni e scarponi Sono l'ideale Per scalare pareti metalliche Sembra però Che i tuoi piedi Siano troppo piccoli Per indossarli Eh si Magari servono Magari per recet Che dici Ok Quindi adesso possiamo tornare Penso da lui Sì Possiamo tornare da lui E là sopra c'è C'è qualcos'altro L'ho visto Aspetta Eh Non si può andare là Sembrerebbe un Bolt No Forse Ah no il gadget bot Però pensate ci arriveremo poi Con Con recet Bene Ok Quindi questa sezione Con Con Clint L'abbiamo fatta E quindi dove possiamo andare adesso Possiamo tornare da Da nostro buon recet Quindi qua Ok Abbiamo fatto Uhu Bene E quindi Niente Ok Grandissimo Ok E quindi questa cosa Sul pianeta Orcson L'abbiamo fatto Dovremmo poi superare la zona selvaggia Ed esplora come recet Quindi qua ci dovremmo Penso Aspetta Fammi vedere se Tipo Possiamo uscire Nei panni di No Sempre nei panni di Clank C'è ancora C'è ancora Esplorare la zona selvaggia Che ora Sinceramente Non so Dove sia Forse Dall'altra parte Tanto qua Facciamo esplodere un po' di Casse Questo episodio Magari lo facciamo durare Leggermente Me Facciamo durare Leggermente Meno Per l'altro abbiamo fatto Già un po' di cosette Anche perché Adesso dovremmo andare Sull'altro pianeta E Quindi Non possiamo fare altro In questo momento Vediamo se riusciamo A andare da questa parte Ma io dubito Perché Mi sembra un po' Lontanuccio Direi di no Quindi facciamo una cosa Facciamo che questo episodio Lo facciamo terminare qua Anche se è durato un pochino di meno Però C'era una sezione un po' particolare Quindi insomma È andata così Quindi niente Però è tutto ragazzi Come sempre Mettetemi un bel impiace Commentate il video Condividetelo se vi va E seguitiamo anche Sulla mia pagina di facebook Come sempre Noi ci salutiamo Mentre lui fa Delle cose Clank Ok Noi ci salutiamo E ci vediamo Alla prossima parte Di recita in clank Per ps2 Alla prossima ragazzi Ciao ciao